Come scegliere l'impianto solare termico ideale? Se scegli di installare i pannelli solari termici, puoi riscaldare l'acqua in casa in modo gratuito, sfruttando l'energia del sole. Ma quanto costa realizzare un impianto solare termico? Dipende. Sul mercato esistono diverse tipologie di pannelli, con caratteristiche, funzionamenti e prezzi diversi. Ad esempio, ci sono i pannelli solari termici piani e quelli a tubi sottovuoto. Questi ultimi hanno una resa maggiore del 15 o 20%, dato che disperdono meno calore e riescono a sfruttare meglio l'energia solare. Il modello di pannello non è l'unico parametro che incide sul prezzo dell'impianto. Anche l'inclinazione del tetto e la zona geografica influiscono sulle prestazioni e sull'efficienza termica. Inoltre, per calcolare la dimensione ottimale dell'impianto di cui hai bisogno, dovrai tener conto del fabbisogno di acqua calda sanitaria, che dipende dal numero dei bagni presenti in casa, dal numero di componenti del nucleo familiare e dalle abitudini di consumo. Non esiste una dimensione standard. Ogni famiglia ha esigenze differenti. Richiedi la consulenza gratuita e senza impegno di un partner Wisman e inizia subito a risparmiare sulla bolletta.